Ciao a tutti ragazzi, ritornate alla terza puntata di Alfin Rush qui sul canale di MaxTV andremo con la terza parte allora, non so quando ce ne saranno allora vi devo andare con butto no, non abbiamo fatto questa quel giorno non abbiamo fatto quella prima sto qui a controllare il corso io adesso, ma so che il percorso è diverso cambia tra il primo e il secondo cioè quello all'orario è contro contro quello contro lui è, sono un mito wow, sono perso è soltata la moto almeno sono morto proprio sono spappolato cioè tipo hanno chiamato la bara mi ci hanno messo, intanto si è baggato tutto, non so cosa è successo abbiamo di tutto bla bla bla, è intanto caduto bla 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 cioè questo gioco è baggatissimo ok buono 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 ah l'ho sbagliato questo qua non andava avanti vabbè non sono forte però in un paio di mani potrò andare avanti e mamma quando si bloccano ok perfetto no 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 ragazzi fatemelo rifare vi prego non ho fatto neanche un turbo e neanche una stars questo qua lo faccio dai lo so Lo faccio all'indietro Con la capriola Beh, credo che faremo due parti No, allora Non so cosa Faremo due parti ciascuno Vabbè, io faccio Di nuovo questo Io non ci sto a perdere Non ci sto ragazzi È inutile Non mi potete costringere a perdere Eh, infatti ho perso Già Ma che cabolo Succede Nel mondo Avevo sbagliato il testo Ma non se ne è accorto Ah, ma ho sbagliato Sembra che non Sembra che si è cambiato il percorso Sono morto Barai, mi arrivo Ok, questo qua non lo parlo Questa seconda vita Seconda vita Sono quelle più accese da me Dove io vado più Decesamente Ci vado, ci vado No, dai Ma mi sto Splofando sempre Quando Nella seconda Ultima speranza Ultima chance Todora, todora, todora 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 se mi spingi mi fa un piacere dai 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 spingi un attimo sprofondato ragazzi lasciate un bel like spalliciate, commentate fate quello che volete tranne i commenti negativi non mi piace ciao, vabbè però voi siete liberi di fare quello che volete ciao